È un bambino di 5 anni, l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. È ricoverato regina Margherita di Torino, mentre non ce l'hanno fatta i suoi genitori Amit Biran di 30 anni, Tal Peleg di 26, il fratellino Tom di 2 anni, di origini israeliane ma residenti a Pavia. I nonni della coppia Barbara Koninsky Cohen di 71 anni e Isaac Cohen di 81, giunti da Israele per una vacanza. Stroncata anche una giovane coppia, Serena Cosentino, 27 anni, residente a Diamante in provincia di Cosenza, ma da pochi mesi è arrivata a Verbagna per lavorare al CNR. Con lei il fidanzato Muhammad Reza Sahai Zavandi di origini iraniane, residente a Roma, arrivato nel weekend per trascorrere con lei qualche giorno. Così come altri due fidanzati, Silvia Malnati di 26 anni, Alessandro Merlo di 29, entrambi di Varese. I genitori ieri pomeriggio, non avendo loro notizie, sono arrivati disperati alla caserma dei Carabinieri di Stresa. Stroncata un'altra famiglia della provincia di Varese, Vittorio Zorloni, 54 anni, residente a Vedano Olona, con la compagna Elisabetta Persanini di 38 anni e il loro piccolo Mattia di 5, morto dopo il volo in elicottero e il ricovero a regina Margherita di Torino. Morti tra le lamiere anche Angelo Vito Gasparro di 45 anni, la moglie Roberta Pistolato che compiva 40 anni proprio ieri. Entrambi erano originari di Bari ma vivevano a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza.